Vi ricordo signori che Pausa Caffè Live ci sarà tutti i giorni con nuove news, e detto questo, si parla di Grande Fratello VIP, si torna più che altro a parlare di Grande Fratello VIP, perché ci sono quattro nuovi ingressi in realtà. Sapevamo già di questa cosa, ma attenzione perché arriva anche l'ufficialità da parte di uno di questi nomi, ovvero quello di Teresa Langella. O meglio, vabbè, in realtà è rispuntato fuori perché l'ex tronista di Uomini e Donne è data come concorrente della settima edizione del reality show da diverso tempo in realtà, da prima che partisse. Sì, questo nome già c'era. Poco prima dell'esordio però una pagina social dedicata al Grande Fratello aveva smentito la partecipazione di Teresa, parlando di un impegno che in qualche modo l'avrebbe tenuta occupata a partire dalla metà di settembre, e le voci si erano affievolite, nonostante lei non avesse mai smentito l'indiscrezione in prima persona. Quindi in pratica non l'ha mai detto. Ora c'è una novità. Tra le ultime storie Instagram di Teresa, un indizio prezioso ai fini della sua partecipazione, che era stata data da Amedeo Venza. Nel dettaglio, nello specifico, l'ex di Uomini e Donne si è immortalata in treno. In treno, sapete, quando una è in treno e in viaggio, no? In viaggio verso Roma. Sì, verso Roma. E infatti dice in viaggio verso nuovi incontri. Un'altra storia, tanta vita. Queste le sue parole che potrebbero farci capire, cavolo, della sua partecipazione, e noi vogliamo vederla all'azione. L'esperto di gossip ha così rilanciato e ha detto «Tempo fa lo avevo comunicato che sarebbe stata una concorrente, ma sarà così? Probabilmente inizierà la quarantena. Il nome di Teresa Langella torna con forza tra i candidati del Grande Fratello, e, sebbene il reality sia già iniziato da quasi un mese, dopo i due abbandoni e la squalifica si è reso necessario l'ingresso di nuovi vipponi». Sì, perché noi eravamo rimasti alla squalifica di Ciacci, di Ginevra, Lamborghini, quindi si sa che poi un ricambio di pretendenti allo sbaraglio ci dovrà essere, no? A quanto pare Teresa potrebbe far parte proprio di questa seconda ondata, se così vogliamo chiamarla. Forse ora è arrivato il momento di varcare la porta rossa per Teresa Langella, noi l'attenderemo. In realtà non dovrebbe essere l'unica vippona di questa edizione, perché i squalificati sono, cioè, tra squalificati e persone che sono andate via, comunque parliamo di quattro persone. Quattro buchi, bisogna riempirli questi buchi. E quindi, secondo sempre Amedeo Venza, ben quattro personaggi famosi sarebbero già pronti all'imminente ingresso nella casa più spiata d'Italia. Ma ci sarà in mezzo anche la fidanzata di Andrea Dal Corso? Sembra che ci sia l'ufficialità, quindi vedremo poi nelle prossime notizie che cosa spunterà fuori. Per ora è tutto, un saluto grande da Max, vi auguro un buon proseguimento, noi ci becchiamo alla prossima.